La partita di domenica scorsa era un passo più vicino a quello che vogliamo fare qui. Ho visto una squadra con la mia identità, con la mia DNA, quello mi fa molto piacere. Abbiamo dato anche una piccola analisi con le ragazze. Tutte le belle cose che hanno fatto in questi 94 minuti, era un po' rock and roll, con questo pressing, con questa intensità. Quella dobbiamo partire da lì ora, questo è il punto di riferimento ora, soprattutto questi 45 minuti contro la Lazio che abbiamo fatto. Quindi partiamo da questo punto di riferimento, prendiamo tutti questi positivi, tutte le cose che abbiamo fatto e li mettiamo nella nostra partita di trasferta a Genoa. Genoa è sempre una squadra molto molto forte, hanno fatto un buon mercato questa estate. Gli investitori della squadra vedono molto bene, hanno un bellissimo progetto anche lì e si vede questo. Hanno una rosa forte e aspettiamo una gara intensa. È una squadra che ha tre punti anche come noi, quindi sì, noi andiamo lì per dare tutto e per fare un risultato positivo.